non lo so dov'è il cinese non lo so dov'è il cinese è inutile continuare a chiedermelo non lo so dov'è il cinese allora io ti chiedo dov'è Ziliacus l'hanno visto alla sagra alla sagra del tartufo a Geggiano in provincia di Siena vicino a Pienza l'hanno visto lì alla sagra del tartufo era a servire Ziliacus dov'è? dov'è l'offerta di Ziliacus? sono spariti anche i atariotti ora c'è rimasto più nessuno ma chi gliene ridà i soldi a Uctrizang? siamo a dicembre dicembre, gennaio, febbraio, marzo mancherebbero quattro mesi perché a fine non lo conto nemmeno 300 rotti milioni chi gliene ridà? gliene da Ziliacus? il bilancio di Grand Tower dov'è? sono due anni che non pubblicano il bilancio te mi dirai lo possono fare ok ma perché non lo tiri fuori? perché non tirano fuori il bilancio di Grand Tower secondo te? te lo sto dicendo da un mese perché non vogliono far vedere determinati movimenti? perché non si apisce dove possa tenersi in piedi questa società di calcio? ma c'è un motivo per cui si tiene in piedi e non te lo fanno vedere non ti fanno vedere chi sta garantendo per i debiti per le passività non ti fanno vedere nulla qualcuno ancora non ha capito che Zanga non conta più nulla da due anni che l'Inter rimane al governo cinese ma basta aspettare per quello che riguarda quel cialtrone gobbo nemmeno se ci fa dissing arriva a 500 visual quello tanto a breve scomparirà da YouTube quel cialtrone gobbo dalle mille versioni che pensa di essere anche seguito nemmeno il muro di casa lo guarda quello lì ragazzi io ve lo dico Juve Inter non è assolutissimamente decisiva per le sorti del campionato ma a livello psicologico è una partita il risultato può dare una grandissima mazzata a chi perde anche perché io ho tutti questi trionfalismi essendo in giro c'è già gente che ha pronta la bottiglia li asfaltiamo li spacchiamo no 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 devi calcolare anche una cosa io non ho mai pianto contro gli arbitri ma se loro sono in difficoltà li aiutano e questa è la cosa per io e hanno fatto hanno fatto un duetto da fuori classe tra chi arbitra in campo e tra chi al VAR al VAR hanno messo un fuori classe lo stesso in campo attenzione e io non ho mai detto nulla contro gli arbitri però due mesi fa mi sono sentito di fare un video dove dicevo che soffiava un venticello un po' strano questa Juve perché è una squadraccia da affrontare perché è una squadra che sfrutta la difesa ad oltranza e poi loro fanno falli spesso fanno molti falli in zone del campo non pericolose proprio per bloccare le azioni avversarie sul nascere facci caso non fanno falli i punti periodosi spesso incominciano a fare fallo appena sotto il centro campo quindi sfrutteranno le ripartenze questo è scontato dirlo e l'ho già detto sfrutteranno la lucidità degli attaccanti questo l'ho già detto ma te lo dico perché loro lavorano giocano su due o tre occasioni a partita non di più c'è Kostic che si è rotto i coglioni di fare quel ruolo e meno male non è il Kostic dell'anno scorso perché quello è un giocatore molto perioloso fronte a me perché è un esterno che ha forza che ha resistenza e che salta l'uomo e che crossa benissimo quindi fortunatamente c'è Kostic in calo c'è da dire purtroppo una cosa negativa per noi che Bremer rispetto all'anno scorso è migliorato tantissimo soprattutto nel difendere in area Bremer è tornato quasi quello che era a Torino quindi loro dopo di noi sono la miglior difesa del campionato cosa volevo dire volevo dire che bisogna sfruttare a questo giro dobbiamo essere molto più cirici davanti perché bisogna sfruttare quelle poi occasioni che soprattutto nella prima parte della partita capiteranno perché poi dopo da lì si potrebbe aprire una voragine nella difesa della Juventus ma come bisogna stare attenti in fase difensiva a non prenderlo il gol attenzione è una squadra periolosa la Juventus non date retta chi festeggia e stappa le bottiglie è una squadraccia da affrontare attenzione se gli fai il primo gol hanno dimostrato di non saper tenere a livello mentale e vanno in ciampanelle occhio alle sgroppate alle ripartenze di Rabiot perché hanno anche gente che sa ripartire quindi loro possono giocare molto anche in ripartenza Chiesa il numero uno anche se a mio avviso depotenziato molto da Allegri e Kin Ken chiamalo come ti pare attenzione non c'è da stappare nulla c'è da andare in campo da dimostrare di essere più forti e dovremmo questa deve essere la partita dove l'Inter deve dare ancora di più rispetto a tutte le partite che ha dato fino ad ora perché questa è una partita difficile te lo dico io quindi davanti bisognerà essere molto più cinici rispetto al solito perché non capiteranno tantissime occasioni ripeto se poi riesci a fargli il primo gol loro a livello mentale hanno dimostrato di non essere proprio dei cyber quindi poi dopo lì non ti dico potrebbe venirne fuori una goleata ma comunque si aprirebbero delle autostrade perché poi dopo loro vanno all'armbaggio cercherebbero di reoperare è comunque una squadraccia da affrontare Classen sembra che a gennaio la super rosa dell'Inter Transport c'è quel c'è un club in Turchia che lo vuole lui ha detto ragazzi ho giocato 70 minuti in 6 mesi ma di cosa stiamo ragionando vuoi che parli di quadrato c'ha male non c'ha male portatemi in panchina mi alleno non mi alleno Sanchez è tornato ieri sera quindi di cosa stiamo ragionando della super rosa vogliamo essere realistici ragazzi o no bisogna essere realisti bisogna essere realisti dov'è questa super rosa in difesa siamo contati davanti siamo contati Sanchez è tornato ieri sera Arnatovic ancora non sta bene ma di cosa ragioniamo cerchiamo di ottimizzare come abbiamo fatto fino ad oggi perché ad oggi l'allenatore e quei tredici quattordici calciatori che sono stati chiamati in causa hanno overperformato e io gli voglio rifare ancora i complimenti ma non c'è nessuna super rosa perché hai qualche ricambio a centrocampo e basta in difesa non ce l'hai nemmeno ricambi ti tocca buttare dentro bisteccone quindi in difesa siamo contati c'è gente di 34 35 36 anni in difesa che gioca tutte le partite al centrocampo hai qualche scelta in più c'è un Aslan migliorato e ne sono felicissimo perché ho un giocatore che io adoro ma davanti siamo sempre in due puoi votare su quei due Sanchez è tornato ieri sera a mezzanotte gli puoi far fare mezz'ora Arnatovic lo puoi buttare dentro 20 minuti ma non sono giocatori che ti possano garantire una continuità di rendimento ciao Inter non lo so dove sono i cinese ahah